eccomi qua bella a tutti dal vostro gabbo man siamo tornati su pes 2016 perché il gabbone è ufficialmente in crisi d'astinenza da pack opening che significa vi faccio un esempio per capire è come se un malato maniaco sessuale non riesce a pucciare il savoiardo o il paesino dipende insomma dalle dimensioni e quindi si attaccherebbe pure a una cicciona zozza e sudata ecco questo è l'esempio per farvi capire oggi il gabbone si deve attaccare alla cicciona sudata perché non ci stanno agenti speciali io volevo babbanfi e babban gita e non ci sta e quindi mi devo attaccare agli agenti top 50.000 crediti l'ho accumulati quindi non me ne frega niente tra l'altro vorrei pescare qualche bel giocatore allora in porta sto appiazzato benissimo in difesa che voti caffa a centrocampo che voti caffa in attacco vorrei qualche bel giocatore mi vengono in mente nomi del calibro d ed in gioco cavani e gonzalo iguain con tutti i giocatori che ci stanno su sta gente sarà veramente difficile beccarli però ce voglio provare anche perché se no non riesco a placare sta cavolo d'astinenza uno che fa pack opening minimo tre volte a settimana che si ritrova a non farne più non lo so io fatevi due conti quindi posizione attaccante eccoli 50.000 gp se li spupazziamo come niente fosse questa è la prima spacchettata del giorno daia che becco cicciolina me lo sento eccolo che se ferma sul nero non ci credo ragazzi mamma mia questo è cavani questo è cavani no è in tappo è in tappo e non fa manco le corsette ma chi cazzo è sto giapponese li mortacci loro quanto cazzo è brutto pare una femmina pare questo è hm son ma è h&m che è la io te madonna vabbè corea del sud nord east london io non ho mai sentito questo però a me sembra abbastanza buono vedo velocità vedo fisico vedo tiro vedo dribbling e vedo qualche passaggetto allora guardiamolo meglio nel dettaglio vedo velocità 87 porca puttana questo è forte dribbling 85 potenza tirompente 85 potenza detiro 84 mi sembra un buon giocatore tutto sommato anche se non lo conoscevo va bene così aggiungiamolo ai membri my club ma guarda che culo ho beccato il pallone nero va bene così ce riprovo ancora una volta però perché il gabbone non è sazio come maniaco sessuale di quelli che mamma mia quindi le palle girano come al solito se ribecco il nero pure stavolta io non lo so quello che può succedere oddio oddio c'è mancato poco ma non l'ho beccato va bene così pallone oro stavo a difare le corsette ma adesso ho deficit me so boh lo so io questo è agli te togo sc bastia 27 anni 1 e 74 alla prolifica dribbling e velocità non sarebbe manco male vi dica la verità però fisico da soffiatore dei minestrine proprio non me serve passaggi praticamente ce l'ha il tiro pure che cazzo ce devo fare vabbè questo novellini e pedalare anche se c'ha le abilità chiave abbastanza elevate perché 83 e 382 non è che fa schifo aggiungiamo pure lui ai membri my club e andiamo con la terza spacchettata del giorno insisto coccastolo perché come vi ripeto voglio trovare qualche altro top in attacco do cazzo stanno i neri eccoli sono arrivati schiaccio in questo momento e se ferma troppo presto il gabbone aspettava un altro pallone nero che non è arrivato questo è un altro pisellino barra pisellone in se capisce è una via di mezzo perché è 1 e 71 però vedo abbastanza fisico questo è overt o vert o verticone e questo c'ha la mazza c'ha la mazza per forza argentino ma questo è nero argentino è incredibile e gioca nel green black che ha a squadra dei mandinghi sicuramente 21 anni 1 e 71 un ottimo 78 di valutazione generale fa la prima punta fa la seconda punta e fa la terza gamba ok 80 80 e calla c'ha veronica che vuoi dire a fare veronica ce se schiaffa però ce se butta sopra manetta e comincia a zompà aggiungiamo pure lui ai membri my club ovviamente e ce facciamo ancora una spacchettata cazzolo eccolo qua ripago con gp riconfermo mi mancava l'ebbrezza di spacchetta di spenne li sordi li sordi insomma me li so guadagnati canovellini però diciamo che so sordi perché il tempo è denaro eccolo qua un altro pallone oro e che cazzo voglio un nero voglio un nero non mi accontento questo mo ma chi cazzo è porco due questo è gomez dell'atalanta bc 27 anni 1 e 65 fisico questo proprio da soffiatore dei minestrini di quelli esagerati però ragazzi guardate che velocità c'ha io ve la voglio far vedere nel dettaglio potenza di rompente 91 velocità 87 quindi un'ottima velocità di base accompagnata da un dribbling esagerato 84 e poi pure un buon controllo palla 80 c'ha colpo de cazzo cioè questo c'ha manco un pavesino c'ha ma dove ha fai colpi de cazzo a chi poi a chi all'arbitro vabbè può essere pure che gli piace aggiungiamo all'arbitro è aggiungiamo ai membri my club e all'arbitro gli piacciono i pavesini evidentemente e ce riprovo ancora con castolo perché se ho beccato tre oro di fila è più probabile che esce il pallone nero anche se le percentuali la praticamente in se schiodano so quelle pagamo ancora con gp riconfermamo come al solito e vediamo che ci esce fuori le palle girano schiaccio me dai n'altro nero te lo chiedo per corte sia fermatece oddio oddio questo è cavani ragazzi questo è cavani me lo sento potrebbe fare corset o cazzo qualcosa fa se tu fa pecore non ce posso credere oddio no me sento male ragazzi io questo lo desideravo come un pene porca miseria cioè lo desideravo come un pene nel senso che cioè è un pisellone al gioco de calcio è perché io c'ho tutt'altri orientamenti questo è van persi me sa che dar cognome secondo me se ho metto un campo non vinco però siccome è 90 de valutazione generale siccome c'è un tiro della matosca io direi che il rischio se può correre o potevano chiamare van vinsi ma che cazzo cioè non lo so io ho d'andese 32 anni 1 83 uccellone d'aria ragazzi ma io ve l'avevo detto cioè c'avevo voglia di spacchettamento ma è ovvio che il gabbone esce con lo sculo gabbo e lo appizza a qualcuno è incredibile andamola a vedere più nel dettaglio madonna quanto so contento ragazzi ho speso 50.000 gp ma oh so ben spesi per carità 92 abilità offensiva 92 finalizzazione 89 potenza tiro 88 controllo palla questo è un giocatore che devo assolutamente provare ragazzi non lo posso lasciar fuori dalla squadra titolare quindi sicuramente ce lo schiaffo vediamo come se comporterà detto questo se vi è piaciuto e volete vedere nuovi pack opening del gabbone mi raccomando mettete un bel mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale fatemi sapere pure voi che avete pescato e soprattutto se state pescando con gli agenti top non mi resta che darvi appuntamento alla prossima sempre con un nuovo video dei pes 2016 e il gabbone vi saluta bello a tutti ragazzi ciao